La più importante è quella che noi abbiamo definito forse la più grande opera che deve caratterizzare il paese nei prossimi 30 anni. Casa Italia, un'architrave su cui ricostruire, ricuscire il territorio, mettere in sicurezza il paese, riqualificare i borghi, i nostri luoghi dell'anima, della nostra cultura, del nostro paesaggio, in cui tante migliaia di piccole imprese sarebbero chiamate a produrre, a innovare, così come abbiamo riuscito, rilanciato nel rinascimento i nostri borghi, le nostre città, i nostri paesi. La piccola impresa e l'artigianato si candida a ricuscire, a ricamare, a rilanciare, a risistemare le nostre città distrutte.